Un gazebo che pubblicizza una nota marca di automobili è stato posizionato in Piazza Martiri della Libertà proprio di fronte alla scalinata del Duomo. Il consigliere comunale di Teramo, Luca Corona, critica la collocazione di questo gazebo. Sì, il mio appunto fatto sui giornali, sugli organi di stampa, non riguarda la concessionaria. Ovviamente sono a favore della pubblicità, del marketing che viene fatto sul nostro territorio perché sembra per la nostra città una cosa positiva quindi nulla contro la concessionaria in questione ma il posizionamento, come ben diceva lei, di questo gazebo. Lei cosa suggerisce? Un posizionamento diverso visto la collocazione che attualmente ha questo gazebo, vista la cattedrale che è un pezzo importante della nostra città soprattutto in questo periodo dove con il bellissimo allestimento che ha fatto il comune, la regione tramite dei fondi e quindi vengono turisti, quindi una parte attrattiva della nostra città, vedere questo gazebo alle spalle di questa bellissima cattedrale non è il massimo. Quindi io chiedo e soprattutto mi pongo le domande se ci sono tutti i permessi soprattutto dalla sovrintendenza che questo gazebo venga spostato sempre in piazza Martiri, visto che la piazza è grandissima e di posizionarlo in maniera diversa per dare un'immagine diversa alla nostra città soprattutto per i turisti che in questi giorni affollano la cittadina terramana. Grazie 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 Grazie